A me? Fantastic Horse. Partiti! E' in vantaggio Dottor Gianni davanti a Strex, il maggior dittatore, Oli Ballet, Fantastic Horse, Giolitti e Cassiopeia. Dopo 400 metri di corsa si avvantaggia Dottor Gianni davanti a Strex, il maggior dittatore, Oli Ballet, Fantastic Horse, Giolitti e Cassiopeia. Prosegue in vantaggio Dottor Gianni davanti a Strex, il maggior dittatore, Oli Ballet, Fantastic Horse, Giolitti e Cassiopeia. All'inizio della curva è sempre in vantaggio Dottor Gianni davanti a il maggior dittatore, Strex, Oli Ballet, Fantastic Horse, Giolitti e Cassiopeia. Poco prima dell'ingresso in vantaggio conduce Dottor Gianni davanti a il maggior dittatore, Strex e Oli Ballet. I cavalli entrano in vantaggio con Dottor Gianni in vantaggio lungo la corda davanti a il maggior dittatore, Strex, Fantastic Horse a centropista, Oli Ballet, Giolitti e Cassiopeia. E sempre in vantaggio Dottor Gianni davanti a Fantastic Horse, Oli Ballet e il maggior dittatore, Giolitti. Prosegue in vantaggio Dottor Gianni davanti a Fantastic Horse e Oli Ballet. È facile Dottor Gianni, davanti a Fantastic Horse ed Oli Ballet. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.